Ok, questo è il primo roller che facciamo con Cosimo, monta delle gomme da 17,5 pre-tensionate, quando spareranno avranno una tensione di circa il 236%. Questo è il fucile quando è scarico. Questo è il carichino che è indispensabile per poter caricare il agivolmente il roller. Carichiamo prima l'assico interno. Grazie. 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 ok a questo punto dobbiamo solo disarmare il fucile è a riposo grazie grazie grazie